Gli incendi rischiano di compromettere intere aree boschive. Un cittadino attento aiuta il controllo del territorio. Se avvisti un incendio, chiama Calabria Verde al numero gratuito 800 496 496 oppure i numeri istituzionali 115 Vigili del Fuoco, 112 Emergenza Nazionale. Anche una piccola fiamma può essere causa di incendio. Non bruciare il tuo futuro. Salva la Calabria. Il verde è un bene prezioso.